A Pellegrino Pernense la fibra ottica è attiva e i cittadini possono iniziare già a richiedere il servizio. Non nasconde la propria soddisfazione il sindaco Alberto Canepari dopo l'incontro tenutosi mercoledì sera presso l'auditorium Costa Erbosa e che ha visto intervenire numerosi cittadini. Alla presenza di tecnici responsabili di Open Fibra la popolazione ha avuto importanti chiarimenti sulle zone coperte dal servizio sulla procedura da eseguire per l'attivazione e sui costi. L'arrivo finalmente della fibra commenta il primo cittadino è un'importante opportunità di crescita del paese e di opportunità lavorative non solo per chi abita qui ma anche per chi potendo lavorare in smart working può scegliere Pellegrino come nuova realtà di vita immerso nel verde e nella tranquillità. L'arrivo della fibra la vediamo dunque termina Canepari anche come importante incentivo per scegliere di vivere nel nostro comune.